Ok, per fare questo esercizio vi servirà un bilanciere e dei dischi. Il carico sarà dato dalla percentuale calcolata sul vostro 1RM. Da qui allargate i piedi di più rispetto a quelle che sono le spalle. Portate indietro il bacino in modo tale che le ginocchia si possano flettere e che le vostre braccia rilassate vadano a contattare il bilanciere. Afferratelo con le mani, le mani avranno la funzione di essere dei ganci che si uniranno alla barra. Da qua chiudete bene le spalle indietro e attivate il dorsale per avere una presa salda. Una volta posizionati andate a spingere via il terrego per sollevare la barra verso il soffitto. Una volta che la barra è arrivata le anche ritorneremo in posizione di partenza. Grazie. 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 Grazie.